La fotografia di Emanuele Giuseppe Cavalli è protagonista di una mostra inaugurata il 19 marzo all'interno della Biblioteca Comunale di Lucera, ex Convento San Pasquale. Noi e l'immagine è il titolo di questa esposizione che si potrà ammirare fino al 14 aprile 2022, negli orari di apertura della biblioteca. Emanuele Giuseppe Cavalli, fratelli gemelli classe 1904, furono artisti molto apprezzati che arricchiscono la schiera di personaggi illustri a cui Lucera ha dato i Natali. La mostra è stata resa possibile grazie all'Associazione Emanuele Cavalli di Roma e all'Archivio Giuseppe Cavalli di Lucera ed è stata trasferita per l'occasione dall'Università della Sapienza di Roma, dove è stata visitabile da febbraio fino al 9 marzo, alla città di origine degli artisti Lucera, dove vi resterà fino a Pasqua. L'esposizione per la prima volta mette a confronto in maniera sistematica l'opera fotografica dei due fratelli. Il percorso espositivo ideato nell'anniversario della scomparsa di entrambi comprende circa 130 fotografie e si snoda attorno ad alcuni nuclei tematici condivisi dai gemelli, a volte con sguardi diversi, a volte sovrapponibili. In queste foto compaiono gli stessi luoghi come Firenze e Lucera e gli stessi oggetti da cui si possono scorgere somiglianze, ma anche le personalità differenti dei due gemelli. Grazie a tutti.